Ancora una vittoria per il Treviso che ora è terzo e solitario in classifica a due punti dalla San Marino capolista. Ieri battuta la Giacomense con un gol di Torromino. I dettagli nella servizio di Nicola Brillo. Per qualche minuto il Treviso riassapora la vetta della classifica. Dopo 90 minuti è comunque terzo in solitario a due punti dal San Marino in vetta. Risolve la partita contro la Giacomense il bomber Torromino che su perfetto assist di Giorico trafigge Poluzzi in diagonale. Gol con dedica speciale ad un tifoso bianco celeste. All'ottavo dal Rio ci prova da lontano ma la palla finisce tra le braccia di Campironi. Tre minuti dopo è bandiera, tiro deviato e Poluzzi para. Al 64esimo si fa vedere il Treviso. Azione in velocità, tiro di Ferretti che finisce fuori. La Giacomense ci prova dal limite, Cacciagli colpisce male e manda fuori. Al 41esimo Perna entra in aria, De Marchi respinge sulla ribattuta Ferretti il più veloce ma calcia fuori. Nella ripresa la prima azione della Giacomense, Minardi colpisce di testa e la palla finisce fuori di poco. Al 49esimo Ferretti salta due versari ma non il terzo che blocca l'azione. Ancora Treviso protagonista con Digirolamo che colpisce la traversa di testa. Al 76esimo la Giacomense con Paci di destro, papara Campironi. Un minuto dopo ancora Paci che sguscia in mezzo a due bianco celesti ma il tiro è debole. Il finale vede due azioni del Treviso. Prima Perna l'85esimo che serve Malacarne ma la palla finisce a lato. Ancora Malacarne di testa all'88esimo e la palla va alta. Abbiamo fatto tre punti, era già prevista una partita di sofferenza perché sappiamo che il finale di campionato riserva questo tipo di partite, con questo tipo di squadre. Ma niente di particolare se non qualche azione sporadica. Mentre noi abbiamo avuto anche delle azioni per chiudere la gara, una traversa o un tiro mancato. Ha fatto sì, soffrissimo fino alla fine però sono molto contento per i tre punti.